Ciao Ciao, cosa vuoi ragazzi? perché stai stagionando me? perchè stai stagionando me? Prima cosa che zona prendiamo? quella sinistra quella sinistra no quella verso destra qui ci sono due palazzi a tre piani è il meglio o questa zona o questa scegliete voi o questa ci sono due palazzi a tre piani e ci sta il ristorante ok vicino al diner vi dico io quando saltare dico io quando saltare puntate verso milta cioè puntate in diagonale tra 120 e sud est 321 go regà mi sa che entro dentro l'angar entro dentro l'angar anzi no no riesco ad andarci al ristorante vado al ristorante ci arrivo benissimo al ristorante una la strada vicino all'angolo wash 1 ti sta aterrando dietro va per la moto dietro dietro vai due edu la dentro di il melo per dimmelo prima però che curva che avevo chiamato una cappa wash anch'io una cappa ha preso e andato è però gli altri sono rimasti rimaniamo sì sul set destro ok o se vuoi andare in centro andiamo in centro adesso no perché tutti devono tutti devono pushar da bocinki quindi vedete alle moto per l'urcare il side destro dobbiamo prende dobbiamo portare il come se dovrà sì magari c'è un chic pad e un vertical se sali qua sopra in sta casa mi ha messo solo il chic pad e dove andiamo rica e la cosa sarebbe da prendersi questa lo sapete dobbiamo andare subito però rica arrivo sopra c'è un chic pad e un vertical lomba ce l'hai il compensator lascio il flash hider se ti serve e pensa già se c'è gente dove andiamo se c'è gente dove andiamo queste ok se c'è gente ancora un uaz davanti a me che sale verso prison un uaz sta salendo verso prison dove andiamo quelle case quelle dove vicino l'omba regà è l'unica non abbiamo caso non abbiamo caso non abbiamo caso e tu lì c'era un team l'ho chiamato io non ho più bello praticamente ci chiudono questi posso niente watch mi porti dall'altra moto macchina dove dove fatto le vedo le vedo sono lontanissimi casa l'ho visto con due parti regà dove c'è il giallo potrebbe essere uno buono spot o sennò inchiamo veloci ed andiamo qua scelta vostra o inchiamo veloci dove ho messo il punto o andiamo dove c'è il giallo scegliete regà scegliete veloci io dove mi dite vado io ho una gas can se posso dire regà volete provare a incare watch vuoi provare a incare quale al blu e lo andiamo al giallo regà li vedo regà arrivano 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 da dietro verso prison da nord est verso prison dietro lo scollinamento stanno fuori safe stanno fuori safe li vedo li vedo hitati in testa uno sono quattro sono quattro uno la hita knock out uno knock out uno sono quattro morto con knock out bella si uno la la laudino eh il problema o saliamo sulle moto e ce ne andiamo no morti tutti sicuri dove andiamo eh regà ci dobbiamo andare andare in safe dobbiamo arrivare dobbiamo arrivare tipo qua eh però passeremo in mezzo a 200 team chi lurca la strada non so scusa avete le moto non so dove avete le moto io ce l'ho non possiamo metterci esattamente dall'altra parte vai e vai 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 wash io vengo con te che su quella da tre muoio sicuro io ti richiamo a seconda della mia moto ti chiamo destra e sinistra a seconda della mia moto ok si a destra c'è un team wash vira un po' più a sinistra oh merda ma che caro mi sei morto sali sali c'è un team là sopra wash c'è un team sopra sali 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 i muri invisibili i muri invisibili c'è una nostra destra va bene un altro dove dove da dove c'è un altro via destra 3.30 più o meno mi allargo mi allargo merda io sto arrivando ma è più da sinistra non va più da sinistra c'è un team allo shock davanti a te ho preso un altro c'è manca l'ultimo wash eccolo wash 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 ce l'hai davanti vai mi puoi restare ma non l'avevi visto wash e giù gli ho preso la padella 50 volte ah ok io pensavo hai sparato a meno sai wash qua è god sta arrivando sta arrivando guardi di dietro ce l'ho davanti ce l'ho davanti ce l'ho davanti ce l'ho davanti vengo no aspetta aspetta stai sulla sinistra stai sulla sinistra stai sulla sinistra ce l'abbiamo davanti ce l'abbiamo davanti aspetta devo strisciare però quanto quanto vicino è 50 metri all'albero che vedo che sto puntando a est mi senti tanto dobbiamo metterci dobbiamo metterci a sinistra wash wash sto arrivando sto arrivando falli fai dare falli fare il caso che non voglio raga aiutatemi pure voi eh da spettatori arrivano zitto arrivano da me basta l'hanno fatto per spottarmi si sono fermati quanti erano quanti erano uno uno non mi muovo almeno cento li vedo li vedo li vedo li vedo non li posso fightare wash li devo sparare mi stava mirando hai delle smocca wash hai delle smocca c'è un team da 4 dietro di noi merda regalo guidatemi voi verso quelli di wash mi hanno preso dalla tua parte lo vedo merda fili colpi wash devi venire da me noccato uno il team sotto e la tua sinistra sotto sotto ho ammazzato un altro c'è un altro qua wash un altro qua ho una zona god l'hai visto l'albero davanti a te l'albero davanti a te quale dei due quale dei due sono due gli alberi quello lì è primo questo questo sì sì esatto quello lì bravissimo che sprayata wash qua è god qua è god oh cazzo c'è un team mi mira wash una l'uaz sta sparando lo lì è fuori zona morto uno wash lo vedo fermo lo finisco lo finisco fermo wash ho 17 colpi 2 milioni è dietro l'uaz dietro l'uaz dove vedi la smoker è dietro la roccia è dietro la roccia quale roccia l'hai visto la sinistra l'hai visto la sinistra l'hai visto la sinistra dentro la smoker dentro la smoker praticamente close della smoker più a sinistra più a sinistra lì esatto più o meno lì più o meno lì bravi nice let's fucking go bravissimo parco due vi ho cantato a dio aaaaa ma raga ma è tutta la vostra sfiga l'avete passata tutta a me sono una mucca das via 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 via